Un saluto e ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Giovedì sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Leicester, semifinale di ritorno della Conference League. All'evento assisteranno circa 60.000 persone, saranno possibili rallentamenti per la viabilità della zona. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con il trasporto pubblico, con il tram della linea 2 e con altre 14 linee di bus in arrivo da diverse zone della città. Da lunedì 9 maggio invece è prevista l'attivazione di nuove telecamere su alcune corsie preferenziali della città.